Con la morte di Gian Galeazzo Maria Sforza, divenne duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro. Si tratta uno dei più celebri ducchi di Milano, famoso per la corte rinascimentale, da lui portata al massimo dello splendore. La corte sforzesca aveva come punta di diamante il genio di Leonardo da Vinci, che proprio a Milano esplose nella sua maturità artistica, ingegneristica e scientifica. E a Milano questi artisti umanisti vivevano bene, altrimenti non si spiegherebbe perché sia Leonardo sia il Bramante vissero a Milano per 17 anni il primo e 21 il secondo. Ludovico il Moro aveva una speciale attenzione nel seguire lo stato dei lavori delle opere da lui commissionate. Una lettera di Ludovico datata 29 giugno 1497 è esemplificativa. Il duca, per esempio, commissionò la realizzazione di due medaglioni in marmo, con la sua effigie e quella di sua moglie, l'amata Beatrice d'Este. I medaglioni furono posti in due porte secondarie delle mura medievali, a nord e a sud, in un simbolico abbraccio alla città. Si tratta della porta Lodovica, appunto dedicata al duca, e la Pusterla Beatrice, detta anche del Guercio o di San Marco, che metteva in comunicazione ebreva con la chiesa di San Marco. Ludovico poi scrisse, vedere se il gobbo, oltre alla sepoltura, potesse fare parte dell'altare in l'anno presente, per il quale se intenda se tutti gli marmori li sono, e se ne mancasse parte, se mandino a Torre, di presente a Venezia o Carrara. Cioè, vedere se il gobbo, oltre alla sepoltura, possa fare anche l'altare per quest'anno. E guardi se ci sono tutti i marmi, e se ne mancasse qualcuno, li vada a prendere a Venezia o a Carrara. Il gobbo è Cristoforo Solari, ed è commovente il pensiero che il duca stava parlando della tomba della duchessa, recentemente morta di parto. Altro artista, altri problemi. Solicitare Leonardo Fiorentino, perché finisca l'opera del Refretorio delle Grazie principiata, per attendere poi all'altra fazzata adesso Refretorio. La lentezza di Leonardo nel completare le sue opere è diventata proverbiale. E in questa lettera c'è un'altra dimostrazione della pressione che il duca faceva sul genio toscano, tanto bravo a creare, quanto meno bravo a completare nei tempi prestabiliti. Una particolare attenzione va poi riservata alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, ampiamente finanziata dal duca e per la quale chiese di avere tutti li più periti si trovino nell'architettura per esaminare e fare uno modello per la fazzata, cioè un modello per la facciata. Ma Ludovico fu anche il duca accusato dagli storici rinascimentali e risorgimentali di essere stato la causa scatenante delle invasioni straniere e dell'assoggettamento della patria italiana al dominio di Francia, Spagna e Austria. Ma fu davvero lui la causa di tutto? Innanzitutto, dobbiamo dire che gli anni del ducato di Ludovico il Moro non furono affatti segnati dalla pace. Quando pensiamo a Michelangelo, Bramante, Botticelli, Leonardo, difficilmente pensiamo a un'Italia in perenne stato di guerra. Caliamo questi personaggi in una specie di epoca d'oro, dove vigeva la legge del bello, delle passioni e della dialettica umanistica. Beh, non era tutto rose e fiore. E non è un caso che la lettera di presentazione scritta da Leonardo per il duca di Milano elencava le sue capacità militari, propagandava le sue idee di nuove armi e nuovi tipi di fortificazione. E non è nemmeno un caso che molti disegni di Leonardo riguardino macchine da guerra, macchine d'assedio, fortificazioni e mappe militari. L'elenco delle guerre combattute dal duca è lungo e sconcertante. Si va da guerre interne contro ex capitani dell'esercito milanese, che pretendevano aumenti di stipendio, avere proprie guerre di conquista contro le solite città e i soliti nemici. Venezia era la solita spina nel fianco milanese, in costante guerra anche contro Firenze, Ferrara e Napoli. Roma sosteneva ora l'una, ora l'altra città. In mezzo a queste continue guerre, i confini erano zone dove la pressione militare improvvisamente poteva diventare altissima, specialmente sull'Adda, nei punti di Cassano, Trezzo e Brivio. Nel 1483, per esempio, nell'ambito della guerra tra Ferrara e Venezia, i veneziani corruppero il castellano di Trezzo, conquistando così la sponda milanese dell'Adda. Ma i veneziani vennero ricacciati nella Bergamasca da un esercito di 11.000 fanti e cavalieri che si trovava a Monza. Nello stesso periodo un esercito di fanti brianzoli, capitanato da Gabriele Calchi, invase diverse volte la valle San Martino per saccheggiarla e fiaccare così il morale dei veneziani. Non solo Venezia però, anche gli svizzeri avevano mire espansionistiche, o almeno avevano piacere nel saccheggiare le vallate di confine, come la Valdossola, la Val Vigezzo o la Valtellina. Eppure contro di loro, Ludovico inviò un esercito di 4.600 fanti, cavalieri e balestrieri, al comando di Gilberto Borromeo e Renato Trivulzio. La battaglia che ne seguì fu la prima sconfitta dell'esercito svizzero dalla nascita della Confederazione. Nell'ambito di queste manovre politiche ci fu anche il riconoscimento di Ludovico come legittimo duca di Milano da parte dell'imperatore Massimiliano. Questo riconoscimento partì dall'alleanza del duca con Massimiliano e con il re di Francia, Carlo VIII, contro Napoli. In cambio del riconoscimento del rango di duca, l'imperatore ottenne in moglie Bianca Maria Sforza, sorella di Giangaleazzo. I milanesi inoltre pagarono ben 400.000 ducati, oltre a numerosi ricchi doni. Sembra una cifra enorme, ma il gettito fiscale garantito alla città dai suoi territori ammontava allora a 3 milioni di ducati l'anno. L'alleanza portò anche alla richiesta da parte della Francia a Ludovico sforza di passare le Alpi per minacciare Napoli, ma gli eventi precipitarono. Come noto Carlo VIII riuscì a conquistare Napoli, salvo poi essere ricacciato in Francia. Ma la discesa del re di Francia dimostrò che i principi italiani erano deboli e divisi, e ciò spianò la strada per la discesa di Luigi XII, successore di Carlo VIII. Milano era debole per molti motivi. Era diplomaticamente isolata per i continui volta faccia nei confronti di Firenze, Napoli o Venezia. Il duca, vedovo di Beatrice d'Estre, era inoltre caduto in una depressione che lo rendeva inidoneo al comando di una nazione. Pendevano su Milano le mire del re di Francia, nipote di quella Valentina Visconti, figlia di Giangaleazzo, e sposa di Luigi di Valois-Orléans. E' il bello che alcuni giuristi davano ragione al re, dato che Francesco Sforza in fondo era a ben vedere solo un capitano di ventura. Luigi XII aveva pure trascorso l'intera infanzia a considerarsi il vero duca di Milano. Insomma, la battaglia campale tra la Francia e Milano avvenne nel 1499 e portò alla sconfitta di Milano e alla conquista francese della città. L'armata francese contava 10.000 cavalieri, 17.000 fanti e 130 cannoni, ed era capitanata da Gian Giacomo Tribulzio, un milanese doc e già capitano dell'esercito ducale, ma che era stato cacciato via in malo modo proprio dal duca. Insieme al Tribulzio, che per i suoi servigi ottenne il feudo di Vigevano, scesero con i francesi Cesare Gorgia, Giuliano della Rovere, i duchi di Ferrara e della Savoia. Ludovico fuggì a Innsbruck. Nel gennaio 1500 i francesi furono cacciati via da Milano, rei di comportamenti esasperanti nei confronti degli abitanti. La sommossa dunque nacque dal popolo, dal basso, ma servì a ben poco. Il 8 aprile 1500 a Mortara, l'esercito milanese e quello francese si scontrarono, ma i due eserciti contavano nelle loro fila reparti svizzeri, e questi si rifiutarono di combattere tra loro, alleandosi però con i francesi, che li pagavano di più. I milanesi risultarono così fortemente indeboliti. Insomma, Ludovico il Moro fu catturato, portato via in varie prigioni, e morì a Loche, nella Loira, e non si sa nemmeno l'anno di morte, tra il 1508 e il 1510. La perdita dell'indipendenza milanese fu davvero colpa di Ludovico il Moro? Oggi gli storici dicono di no. Era tutta l'Italia essere rimasta una struttura politica ed economica ovattata, senza rendersi conto che gli stati transalpini erano diventati enormi, ricchi, potenti e ambiziosi, e ambivano al controllo economico e politico del continente, Italia compresa. Già Aragonesi e Angioini lottavano per il sud Italia ormai da anni. Era solo questione di tempo, e appena Francia e Spagna risolsero le loro divisioni interne, ecco l'invasione dei territori limitrofi. Ciò accade all'Italia, accadrà anche al Portogallo, alla Scozia e altre regioni politicamente deboli. Così termina l'epoca d'oro milanese. Leonardo prese a girare per diverse città italiane e finì per accittare le lusinghe dei francesi. Il Bramante si trasferì a Roma. Gli sforza ritorneranno, ma come duchi fantoccio di potenze europee. Insomma il mondo era cambiato, l'asse economico si spostava lentamente verso l'Atlantico. E Milano salutava il Medioevo ed entrava traumaticamente nell'età moderna. Al prossimo video, amici del Bruco.